E' uno, attiva hai un passo che secondo me non c'è problema non aver fretta cambia bene? cambia bene adesso è un po' duro però è meglio così se non salta due volte non aver fretta, abbiamo 25 minuti poi tanto lo so che non c'è problema solo quando sono in macchina però ce l'ho se metta questa c'è anche lì si può essere non c'è si 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 La roba è compita tua. 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 La roba è compita tua.